buongiorno eh oh buongiorno che stai fatto ferma sei scemo ah ma che è ma senti state cazzo sa ma questo cosa voglio mi hai buttato ti trema la te il braccio ma da me mi trema il cazzo no ah forma oltre la mattina in forma in forma è tornato è tornato eh ti ha fatto nonna marì l'ho fatto hai capito ma questa io veramente si è grattato il parmigiano e ho fatto qualcosa se non ho fatto niente ma che hai fatto insomma ho pulito la stufa ho pulito la parca aspira l'ho smontato l'ho pulito tanto attenzione sta rinevicando anche oggi dopo le abbondanti nevicate dei giorni passati rinevica guardate come sta nevicando guardate come nevicano ha buttato giù tantissima riaprono tutti i skillif tutte le seggiovie tutte le uvovie tutte le cabinovie siamo a madonna di campiglio incredibile ma anche i versanti di là canazei incredibile guardate come sta nevicando mamma mia si chiude tutto è tutto pronto stai a nevicato le piste sono aperte le schippate sono aperte ma basta che te levo di coglione vai vai